Berlusconi ha fatto un discorso senza spigoli, ecumenico, democristiano si sarebbe detto una volta, anzi lo ha detto oggi Rotondi che è uno dei tenutari del simbolo della DC, quindi era molto soddisfatto. Ha fatto un discorso cercando di volare alto, meglio di svicolare, di evitare i nodi critici, di evitare lo scontro diretto con Fini che se ne è rimasto in silenzio, quasi basito. Già oggi Fini potrebbe annunciare la nascita del nuovo partito, il che implicherebbe le sue dimissioni dal Presidente della Camera, che non darà subito per non farle sembrare una missione su Monte Carlo, ma che sono ormai inevitabili. Quindi oggi non si è litigato, almeno per il momento, oggi i toni sono stati abbastanza dimessi, ma è evidente che la battaglia è solo rinviata e che le elezioni sono, se possibile, ancora più vicine.